Ecco un'altra trincea. Questa è ancora più grande. Guardate che bella. Qua ci sono penso che erano le feritoie. Qua vedete che roba che meraviglia che meraviglia questo era la trincea è una roba... vi giuro io sono senza parole. È una cosa stupenda. Questa struttura è della prima guerra mondiale ed è ancora integra. Cioè vedete adesso ve la faccio vedere dall'alto così potete vedere com'è. Vi faccio vedere. È stupenda. Questo è il passaggio dove sono andato prima. E in mezzo c'è tutto il bosco. Vedete che roba. È meraviglioso. Adesso vi faccio vedere il cartello che dice la spiegazione di come era strutturata questa trincea. Allora come potete vedere il percorso delle trincee Luigi Mario Belloni Qua c'è tutta la descrizione. Questa è la mappa. Vedete? E questa era come era strutturata la trincea. Vedete che bello. È stupendo. Vi giuro che io sono senza parole. Lo ripeto. Dalle bellezze che abbiamo nella nostra valle. Cioè guardate che roba. Questa struttura ha cento anni. Cento anni. Questa struttura ha cento anni. Grazie.